Sono stati registrati segnali preoccupanti di rallentamento per l'economia abruzzese e conseguente crollo dell'occupazione. A cosa è dovuta questa situazione? C'è questa caduta molto forte, anche sorprendente, perché è inaspettata del mercato del lavoro e credo che le cause siano essenzialmente tre. La prima causa è da attribuire alla situazione di stagnazione dell'economia nazionale che ovviamente ha riflessi anche su quella abruzzese. Il secondo motivo sono le turbulenze internazionali che si stanno registrando, con particolare riferimento ai problemi della Brexit e del comportamento protezionistico che di qua aleggia di volta in volta. E infine c'è anche un problema di rinnovo dei contratti a tempo determinato che probabilmente una volta stipulati non sono stati confermati in virtù di questo clima di incertezza che esiste oggi a livello nazionale e internazionale. La piccola impresa ha bisogno di azioni molto più forti, soprattutto di tutoraggio e di crescita in termini di innovazione e ricerca, che non riesce a fare da sola. Per fare questo ha bisogno di qualcosa in più che la politica deve continuare a dare, proprio in termini di nuovi bandi e nuove infrastrutturazioni per quanto riguarda la competitività del territorio.